Fifi usa anche gli altri ogni tanto. Ho due mani, due braccia, una bocca, un culo. Aspetta un attimo, da filmare. Zavolino. Ti piace questo Mirko? Sì. Quei troppo forte. Quale? Ma quello cosa hai incrociato? La canapiglia della Heidel in Germano? No. Non fate tutti gli incroci, faccio i miei d'incroci. Voi fatti i vostri. Sì, sì. Non è giusto? Ho visto. Quella canapiglia? Sì. Io questo. Ora il CD della musica mi dirimi stamattina. Sì, è bella la canapiglia. No, voglio dire, distante non la sento. Eh, però sai, a buio, la mattina, se canto una canapiglia anche 300 metri. Tu la senti? No, la sento. Sento, forse è una tonalità... No, vabbè, ma sull'acqua... Bravo. I Cieli li senti lontanissimi. Io quando sono arrivo a Romari, mi guardo loro che cazzo, sono 300 metri, sento cosa dì. Io bravo, tante volte anche io ho le appostamenti vicino a me, quando fischiano, eh, cioè li senti, sono 300-400 metri, tu senti... Cioè, incredibile. Magari è una bava di vento. Cosa c'è? Questa è un'altra zavola. No, ma mi... Cosa, guarda. Mattia, è legato soprattutto il fatto che quando sono volato non c'è problema. Quando sono in volo fanno girare. Bravo, in volo dopo il discorso cambia. Che al vento sono l'altezza. Magari loro sul fonsì o il battito delle ali non sentono. Quello sì. Tutta un'altra storia. Però quando è butto, mi sentono i versi. Mi sentono bene anche. Moriglione. Eh? Fischione. Fischione, ne ho due o tre di fischione. Con l'aligro rosso. Io uso questo di solito. Il delitto. Si è seccato. Si è asciutto. Questo è il moriglione. No, non ti danno l'altro. Non ti danno l'altezza. Lo con la marina, non ti danno a andare nochi più con delle ragazze Ci sbrimella. Ehi, non ci spengono della domanda. Sì. Ma femmina. va bene è americano per me te lo puoi sparare in qua dà la sciupte poi cos'ho? faccio sentire il fischione con la tromba piace più quello mai spiace quella niente questa è un'altra zavola, quella americana a me piace più questo, uso questo io di solito più grossa però finito, più o meno quella è la tua? fammelo provare fammelo provare non mi dire, è la mia ma va quello che dico sempre io, i fischi vanno bene quello che ci manca sono gli uccelli ci vogliono degli uccelli allora no fologa fologa vuoi vai te Dennis dai dai vai te Dennis c'è il fologaro si di tombetti pavone in amore ah però eh si che bello poi quando ci sono i bacini queste due foghe questo è il canto che è un giorno più primavera c'è cioè non questo quella luce di più questa qua è quella che richiama invece in primavera sarebbe non senti di più quello lì fanno sentire tu vai intorno di notte adesso che fa lui lo fanno di più in primavera il suo è più da primavera? mi canto da primavera ah tac attacchi invece quello lì è un richiamo che fanno il più quello lì quella lì quando la follega ottobre è mia è mia di chi è? è mia io sono qui come ho scegli ah 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 ma che pettino tu l'arrei in basso per non ottenere un richiamo tu gli rispondi vabbè dalla Davis se tu ci fonti una follega dovranno un richiamo così così ehi tieni dai 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 tieni suona 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 uno con l'altro si chiassa di primavera quale è meglio secondo te? così? il primo punto è l'uccello di passo il lucello di passo dà meno diciamo oppure si puoi girare l'attenzione poi non sai mai quali quello certo però è ingenuo risponde allo stigolo e lui sul passo sente questa roba risponde capito? più difficile che venga mare l'uccello stardiano il Germani ha già capito conoscono non sembra una cratinata ma conoscono i lassi quindi dire quella è più difficile no vabbè ma le fole che le fole che però deve vengerli bene si perché quelle lì non fanno metallo per niente quelle ultime sono buone? quelle di Claudio? mi viene buona uno due sento come sei stato buono venti la povanciale io ho questa qui io le prendo da Canducci questa qui vuoi provarla? ma tu ce l'hai io fuori da me non funziona non funziona non funziona non funziona una trombocina io non ce l'ho che mi riesce a fare una amica fatta io uso questo vabbè che non è che il campione dico la verità quando mi capitano le chiamo e ci sparo quando vengono il chiurlo non lo fa più nessuno no il chiurlo ce l'avrò anche qua in giro ma non sono non sono un campione qui è il chiurlo non sono bravo più o meno li ho tutti fischi infatti ci fischiamo solo ci guardi siamo qua a quattro tiravano qua tiravano dalla parte d'altra il problema era di avere il problema e non ferirlo è valutato fare è il però si 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 è Il ventilatore lì, è una stufa di lavoro. Quanto colpi ci possiamo caricare? Otto, chiediamo il fermo. Allora avete caricato voi? No. Avete caricato? Potete caricare? Come funziona? Allora, io sono affetticoli. Il lardo? Il che fa è da oggi è da con me. Ehi, per riprendere per mettere il blocco di... Per mettere quella roba qua per mettere... Andiamo, andiamo. Staccare sulla destra. Ok? Comunque magari... Giovi, gli rifacciamo... Giovi, gli rifacciamo... No, devi prendere due. Due. Alcio. Vieni, magari vieni avanti un pochino con la segherina. Maxus di... Eh, però devo stare indietro. Tutti seduti erano letto in cui li vedono. Stanno indietro. Si può sparare che era seduto. Vado in via. Però... Pronti? Vedere? Guardate chi li fa vedere. Chi li fa vedere. Ti li fa vedere, eh? Pronti? Escono tutti così? Sì. Esatto. No, non sono tanto vicini. Dopo il vento in base... Non sembra quella lì, comunque. Quando siete pronti... Prima avendo spacchietti lì. No, prima c'è che portano uno. Ehi, vai. No, noi siamo pronti. Due. C'è incepatra. Giù. Non va. Fa una botta su. Ma tu puoi lì? No. Non so. Roppi. Due. Un pochino. Due. Un pochino. Vedi per ultimo. Vedi per ultimo. Ha ha ha. Vedi il dottore? Metti dentro 6 cartucce. Vai. Ma è da buonare. Sì. Da seduto. E quando ti puoi alzare? Quando ti puoi alzare. Quando ti puoi alzare. Mi? Terminata la serie, eh? 12 sono terminati. Vi ha finito? Sì. 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 Avvocato. E te dove hai cavalli? Da parte. Sono qui per divertirmi e mi diverto sicuro. Ti va prestato. A te ce la c'è in canna? Sì. Sì. Ma non la cartuccia, intendo. Tutte e due. Registrato. Stiamo a scaldarci adesso. È un tempo niente a partire. No, è che due botte per le natte. Bolivio. Siamo più coppia. Dopo. Tocca a noi. No, non dopo. Dopo due. Tocca a noi. Sì. 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 Poi. Si. Stiamo a la volta. oltre 4 4 cos'è che l'ha fatto con me chiamatemi dei coglioni male quanti stai lì la donna una stessa oh oh 2 3 3 ha parlato sinistro e centrale il secondo e il quarto erano 0 oh non bisogna chiamarli partono da soli 3 3 terminato dai Mirko fatti dare un fucile tocco e rosa tocco e rosa ecco le spiegazioni guarda quegli occhiali da frocio li porti spesso o solo quando te lo perchè da frocio qua devi fare tre muschi per comprare no ma guarda ma me ne facciamo le tira e chi a me lo sai spero che ti trovi bene con la pintalla non lo so non lo so vabbè Mirko la scena l'hai fatta incarichiamoli però diglielo tazzito che è più bello guarda come è serio quello là dall'altra parte c'è la ghiglia pronti eh ma dove sono i richiami? uno vabbè uno è morto di paura di vecchiaia è morto uno uno zero quattro zeri terminato scaricare Farina e Fabri FF FF Mirko Signori c'è su farina son dolori Mirko c'è preso c'è preso come il mio papi bravo bravo bambino vabbè c'è preso d'ora vabbè 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 3 4 4 4 4 4 4 10 10 10 10 10 10 10 11 12 12 13 14 15 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 16 16 Per me sono 3x3 Due buoni Due buoni 3-0 3-0 3-0 3-0 Ricamotti Andiamo Fai niente Fai niente Vai te a sinistra Eh vabbè Guarda riguarda che sei fatto un accordo Guarda riguarda Tu prendi l'esterno Facciamoli venire bene Facciamoli venire bene Due Come due Non prendi neanche uno Non prendi neanche uno Cambiare cartuccio Cambiare cartuccio Col freddo così hanno penna Eh Due Due ancora Due 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 è un evento no il papà riesce ancora è il figlio che si emoziona ora basso a sinistra io ne sento che canta l'un po' Dennis e Thomas ma avete due schienzi stai? si si guarda l'unico mi devo riscrivere vai Dennis vieni il serbatoio così non deve stare a ricaricare molto bene basta un scegliere fast job che perlantia mamma mia mi va bene a te sei contento che sborsi hai detto 8 grammi non mi hai provato fast job è che mi dà un vantaggio oh teore teore aspetta benissimo grado hai fatto un'altra? è divertente si si Ascolta, stanno andando in giù per attività di basso. Ascolta, stanno andando troppo avanti. Ascolta, stanno andando in giù per attività di basso. Ascolta, stanno andando in giù per attività di basso. Ascolta, stanno andando in giù per attività di basso. Ascolta, stanno andando in giù per attività di basso. Stanno andando in giù per attività di basso. Stanno andando in giù per attività di basso. Ascolta, stanno andando in giù per attività di basso. Prova! 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 il capanno arriva avanti sembra facile ma non è difficile il centrale e il laterale qui in pari aspetta che mare aspetta aspetta se vuoi altre cartucce 3 no se vuoi delle cartucce diverse 4 cartucce come sono metti qui dentro l'hai trovata eh? a posto a posto basta basta no aspetta quanti sono? 12 12 3 erano vicinissimi erano vicinissimi Fabri e Gardini si prepara Fenaroli i fenaroli chi sono? i due padre e figlio cioè dipendono le cartucce penso hai le questi qua di fenaroli vengono fino a quel bar si vengono fino a quel bar si vengono fino a quel bar no esce dalle piante quando esce dalle piante lo vedi faccio vedere eh? tu vai tu lì quando esce dalle piante si vede al secondo tiro quel gesto l'avevo perso io l'ho visto che era giù perchè ti va in controluce all'altezza libera delle pioppe questo di esempio è stato un lancio molto alto poi da basso non vedi perchè ci sono le piante eh si che è il flesso delle piante sto cercando di capire se li lanciano tutte da stessa maniera perchè mi sembra che il terzo lancio no si è spalsato questo è da adesso ad esempio si si esatto esatto tre tre l'ancellotti seminario oh due no due 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Nel più bello, stop. Da solo? Il peso c'è per due. 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 3 terminato 8 ballini e favalli si prepara Fenaroli, Claudio e Giovanni Fenaroli, Claudio e Giovanni 3 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 3 3 1-0 1-0 3 1-0 3 1-0 1-0 2 3 1-0 2 3 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 taglia la scena guarda tosto per qualche motivo quella è la polizia terminato la mano da niente qua spari da solo controlla tu questo lancellotti è seminario si prepara Alifrandi e Fenoroli preparati? non è che la conviene prima di sparare con un largo non è che la capis mia 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 2 4 7 5 6 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 12 12 12 13 13 15 15 13 15 15 15 16 non si buttano nel secchio alla prossima ciao amico alla prossima ci vediamo ciao cari ciao cari ciao cari ti vediamo alla prossima ciao ciao a tutti ciao eh ciao ciao 4 4 vai è robin 9 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 3 le ha fatte 1 a 1 2 a 2 2 a 1 bravo l'importante è prenderli eccolo 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 l'inghigno di superiorità bischioni grande fine 9 4 4 4 4 4 5 5 6 5 6 8 9 10 11 11 11 12 12 12 13 13 12 14 15 14 15 15 15 15 16 14 18 20 20 20 21 22 Quattro, attro. Dicevi? Come ha sparato? Si è divertito? Si, abbastanza. Io Consoli con un sorino non l'ho mai visto, gli ride anche il culo, guarda, forca boia. Lei dichiarazione a caldo? No, l'ho già visto a pranzo. L'ichiarazione a caldo è che il nostro Consoli purtroppo ha sbagliato, li ha presi invece che fare come solito. Come ha sparato il signor Mattia Gardini? Ho sparato benissimo. Come ha sparato il signor Dennis Fabri? Numero uno Dennis. Ho fatto dei buchi, chiaro. Alessandro. No, no. Fa caldo. Fa caldo. No, ma va là, ho freddo porco, c'è la brina. Non fa fare il bio piscina. Adesso è qua. Lui continuava a lanciare e ce n'era lì uno che gli fa al figlio. Guarda, ma va, sta pescando. E lui, ma va, ma qua non ci vento niente. 47 centimetri di faria. Guardate questo ghigno di superiorità. Quando ha fatto 4 su 4 il sorriso ha ingoiato la sedia. 4 contro il colpo. I ballini si schiacciano i marroni. Ma anche lui è andato a casa. La gara all'onato. Bravino comunque che lui. Ci voleva. Stavo morendo. Bravo. Ma al destino prezzi dopo. Ho amiche che ne fanno sparire due di filo. Ma vedo che te ci ti impegni però, vedo. Senza neanche aprire la scatola. Ciao Giovanni, ci vediamo. Dove hai finito la bionda con la macchina? Non è neanche mai finita la sua. Non è 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 mai finita la sua. La prima coppia... La prima coppia... La prima coppia... Consoli Balini. Seconda coppia che premiamo. Brusatelli 1 e Brusatelli 2. 3 giù. 3 giù. ... complimenti complimenti non so se non è che state un po' poco che vuoi li conosciamo belli questa coppia premiata e non venuto di importanza Gardini Pedulli ma bravo a comprare grazie Mirko, devo fare metà con Seba questa l'abbiamo Seba tanto mi è chiesto di voi ho registrato anche questa Nicola Tosamico grazie Farami per sempre a faccia vostra grazie mille ringraziamo il tuo lavoro di Chito della compagnia dell'ospitalità e tutti i ragazzi grazie a voi un'altra volta ok per ultimo per ultimo notamente grazie e complimenti per tutto il gruppo grazie grazie a voi grazie a voi